Il lago di Soanne riaprirà, ma resta irrisolta la questione relativa al diritto di proprietà dei terreni su cui il lago sorge. Classificato tra i beni disponibili, la proprietà è rimasta alla provincia di Pesaro-Urbino, anche dopo il passaggio dei sette comuni dell'Alta Valmarecchia in Emilia-Romagna. Negli anni si sono registrate situazioni di incuria, fino alla mara sorpresa di qualche giorno fa, strisce bianche e rosse di delimitazione, il cartello con la scritta di vieto di accesso proprietà privata. La mancanza di manutenzione ha aggravato la situazione del pontile e della staccionate che delimita il lago, così da Pesaro ci sono limitati a vietare l'accesso. Noi come comune ci siamo dovuti accollare la manutenzione ordinaria attraverso un comodato gratuito che rinnoviamo tutti gli anni, però la proprietà è rimasta alla provincia di Pesaro, che a questo punto non fa più le opere necessarie, ad esempio abbiamo un ponte in gravi condizioni che è stato chiuso. Ora il comune di Pennabiglia ha trovato un nuovo accordo con la provincia di Pesaro per raccollarsi anche le spese relative alle utenze della luce pubblica, quanto richiesto come condizione per la riapertura, ma la vicenda non finisce qui. Noi abbiamo bisogno di una progettazione seria per il lago di Andreuccio perché abbiamo tutte le stesse note da rifare, gli edifici in condizioni non proprio idonee, quindi come comune stiamo preparando un'idea progettazione per poter presentare la regione e per poi avere finanziamenti anche, speriamo, attraverso il parco interregionale che si costituirà ufficialmente la prossima settimana. La proprietà rimane alla provincia di Pesaro. L'ex assessore Leonardo Sacchetta ha promesso forti azioni dimostrative. Il suo timore è che nelle marche si pensi di cedere il bene ai privati. A quel punto una passeggiata intorno al lago diventerebbe a pagamento. Grazie a tutti.